Prima di procedere oltre, è forse il caso di tracciare una lista di massima di quelle che sono le specialità e le debolezze di ciascuno dei metodi colore che andremo a utilizzare. Per quanto riguarda RGB, questo è un buono spazio colore dove possiamo realizzare delle correzioni tramite curve in particolare di tipo generale. È anche certamente il miglior spazio in cui possiamo realizzare la cosiddetta fusione dei canali che sarà oggetto di uno dei capitoli di questo corso. È uno spazio invece direi poco adatto a manovre veramente radicali sul colore in quanto queste sono di competenza dello spazio LAB di cui parleremo tra pochissimo. Infine, è anche questo lo spazio in cui è più difficile realizzare le maschere di contrasto che, se non si sta attenti, possono portare a degli spostamenti cromatici che non sono affatto gradevoli. Per quanto riguarda CMYK, i punti di forza sono questi. È certamente lo spazio in cui si possono fare le correzioni colore più delicate tramite le curve e non solo. È fondamentale in questo spazio la presenza del nero che serve per manipolare le ombre che sono gioia e dolore di qualunque ritoccatore, specialmente da quando si è affermata la fotografia digitale. È uno spazio invece che non è adatto come RGB a manovre radicali sul colore anche a causa di quello che è un altro problema suo, che è il gamut ristretto, ovvero la sua incapacità di mostrare colori particolarmente vivaci soprattutto nelle aree dei blu e dei verdi. Infine però, CMYK è anche lo spazio ideale in cui conviene applicare, se solo è possibile, la maschera di contrasto. Detto in altri termini, se sapete già che dovete uscire in CMYK con un file, usate questo spazio colore per quello che è normalmente l'ultimo step della preparazione di un file, ovvero l'applicazione dello sharpening o maschera di contrasto. Infine, lo spazio lab. Questo è lo spazio in cui si riescono a fare dei cambiamenti assolutamente radicali e mi verrebbe da dire a volte ridicoli del colore. È fondamentale in questo spazio la separazione tra la componente di luminosità e le componenti cromatiche. Si tratta anche di uno spazio, purtroppo, in cui è facile realizzare dei mostri, tra virgolette, a causa della sua enorme potenza e questo lo vedremo nel corso delle prossime lezioni. Infine, questo è uno spazio in cui è molto opportuno, se è il caso, applicare la maschera di contrasto in quanto si comporta meglio di RGB, ma direi, in media, non meglio di CMYK. Detto questo, chiudiamo con questa lezione il presente capitolo e andiamo al prossimo, che contiene una serie di esempi e applicazioni di alcune tecniche più avanzate di quelle che abbiamo esaminato nel corso precedente.